Oggi la Lega non ha accolto l'appello di Napolitano a confrontarsi sulla legge elettorale. Lei è d'accordo con questa scelta presa a livello nazionale? La Lega ha detto che noi abbiamo una nostra posizione all'interno dell'opposizione, non la pensiamo come il resto dell'opposizione e quindi è giusto che Napolitano, secondo me non si può fare di tutto a un buon fascio, che ascolti i vari partiti, ognuno per la propria posizione. Qual è la vostra idea sulla legge elettorale? Allora intanto servono due modifiche sostanziali, una la governabilità, ci deve essere qualcuno che vince e che governa, non può essere una legge elettorale che consente il pareggio, e l'abbiamo fatta noi questa legge elettorale, insieme al centro-destra, però è sbagliata. E l'altra è che i cittadini devono poter scegliere, perché con una legge dove scelgono i partiti, perché i partiti scelgono direttamente gli eletti, e non li scelgono i cittadini, ha il meccanismo che intanto chi va in Parlamento, spesso, non sempre, ma spesso risponde ai partiti anziché rispondere alla volontà popolare. E l'altra è che rischi di abbassare la qualità media della classe politica, perché se si va là competendo sul merito, allora vanno là i migliori. Se invece vanno là gli amici, allora si abbassa anche la qualità.